Benvenuta, benvenuto, io sono Noemi Aspasia Marcialis. Sono una psicologa clinica e una futura storica dell'arte. Il simbolo che vedi alle mie spalle è un enneagramma, cioè una stella a nove punte iscritta in un cerchio. Questo è il quarto video che registro e diffondo riguardo all'enneagramma. Nei video precedenti lo abbiamo definito un modello matematico, un simbolo esoterico e uno strumento per studiare la personalità. Ad ogni punta corrisponde un tipo di personalità, ovvero un enneatipo, quindi nove personalità. Queste nove personalità sono raggruppabili in tre macro aree. L'area dell'istintività comprende l'enneatipo 8, il 9 e l'1. L'area dell'emotività comprende l'enneatipo 2, 3 e 4. L'area della razionalità comprende l'enneatipo 5, 6 e 7. Abbiamo descritto l'enneatipo 1, il 2, il 3 e il 4 e oggi mi accingo a spiegare l'enneatipo 5. Per questo mi sono messa gli occhiali, per sembrare più intelligente. Infatti siamo alle prese con quello che nel sistema della Palmer viene chiamato l'osservatore e in altri sistemi di classificazione l'eremita o il pensatore. Siamo di fronte al più colto di tutto l'enneagramma. anzitutto entriamo nell'area della razionalità. Abbiamo detto che l'enneatipi 5, 6 e 7 sono gli enneatipi della razionalità, quindi il pensiero è il centro dominante per questo tipo di personalità. il 5. Il 5 è assetato di conoscenza, qualsiasi conoscenza. Mentre per esempio l'enneatipo 1 studia perché è suo dovere e magari l'enneatipo 3 studia perché ha un ritorno pratico, economico, immediato, l'enneatipo 5 è innamorato della conoscenza. È una sorta di Platone, per dirla così. E per esempio personaggi celebri riconducibili a questo enneatipo sono Einstein, per fare un esempio. Grandi geni. Il suo vizio capitale è l'avarizia. Prova a definirvi questa personalità facendo riferimento a delle categorie analitiche. È un po' quello che fa Claudio Naranco nel suo testo Saggi sulla psicologia degli enneatipi e questo è abbastanza consonante con i miei studi pregressi e con il mio orientamento. Puoi, se vuoi, approfondire. In ogni caso da ciascuno dei miei video trai quello che ti è utile e che ti è consonante e fai ricerca ulteriore se lo ritieni opportuno. Allora, l'enneatipo 5 è un carattere ritentivo. Non si abbandona, non si concede, trattiene. Ok? E la dinamica in termini psicoanalitici può essere quella del pieno e del vuoto. Ok? Non vuole essere riempito e non vuole svuotarsi. È una specie, adesso lo dico proprio in maniera un po' romanesca e anche un po' spregiativa, è una specie di vuoto attappato. Per esempio potrebbe essere anche una donna che continua a ripensare al suo primo amore e non si concede più a nessun altro. Proprio il concedersi per un enneatipo 5 è la cosa più rara. Sono un po' più ritirati rispetto agli altri socialmente. Preferiscono il silenzio, lo studio, l'approfondimento. Detestano assolutamente l'invadenza. Perché? La genesi di questa personalità è riconducibile a delle esperienze infantili che lo hanno visto alle prese con una madre particolarmente invadente. Quindi il primo timore è quello di essere in basi. Si fanno respingenti, non chiedono per non dovertare, non rivelano informazioni personali, intime, per non essere ricattabili. Da un punto di vista fisiologico ascoltavo un fisioterapeuta che ritiene di appartenere a questo enneatipo, al 5. Si delle ossa fragili. Sono poco sportivi eppure snelli. Perché appunto c'è questa dinamica di prendo poco e do poco. E quindi come vi dicevo prima, il loro vizio capitale è l'avarizia. hanno una conoscenza sterminata, studiano di tutto e approfonditamente. Sono cauti, prudenti, riservati, cercano di non litigare. Detestano per esempio che le persone facciano loro un'improvvisata a casa. Cioè devono in qualche modo proteggere i loro confini. E il modo di gestire le emozioni è analitico. Quindi sentono l'emozione anche in presa diretta, ma non la sanno gestire. Vi ricordate la dinamica del pieno e del vuoto? Non vogliono essere riempiti e non vogliono accedere. Quando sono pervasi da un'emozione non la sanno maneggiare. Quindi aspettano di tornare a casa e di rifletterci nella loro camera e di analizzarla, di farla a pezzi e di riordinarla. E questo approccio ce l'hanno per esempio anche quando si preparano a un appuntamento. Mettiamo un appuntamento romantico. La ragazza mentre si prepara sta pensando e lui mi dirà questo, io gli risponderò quest'altro, eccetera. Io ti ringrazio di avermi seguita anche oggi e fino a qui. Se hai delle curiosità o dei dubbi lasciameli tra i commenti. Se ti è piaciuto il video lascia un grande like e qualora non l'avessi ancora fatto iscriviti al canale. Grazie, baci e benedizioni.